salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi andiamo a recensire il tuya mini smart switch un piccolo dispositivo che serve a rendere smart sia i vostri interruttori che le vostre prese e il modello che andiamo a vedere oggi non solo è wifi ma fa anche da meter però prima di continuare con il video di oggi due parole sullo sponsor che ci dà la possibilità di recensire questo prodotto che è temu temu grazie al codice sconto che vi sto mostrando vi permette di acquistare questo dispositivo e non solo a 0 euro avete capito bene 0 euro infatti i nuovi utenti possono ottenere così da 3 a 10 articoli proprio a 0 euro utilizzando il nostro codice sconto sul loro ordine mi raccomando però solo per i nuovi utenti dall'app con ordini idonee in ogni caso prima di continuare con il video di oggi ricordatevi di iscrivervi anche al canale se non l'avete ancora fatto attivando la relativa campanella delle notifiche in più andate sul nostro sito www.fattolasolo.it per trovare tante altre review su dispositivi smart il tuya mini smart switch è un piccolissimo device che possiamo installare facilmente dietro qualsiasi scatola murale rendendo quindi smart sia interruttori che le prese elettriche mi raccomando però possiamo collegare fino a un massimo di 16 ampere di carico non di più di questo dispositivo esistono due versioni una su rete wifi e una su rete zigbee anche se per quest'ultima serve necessariamente il bridge tuya la versione che andiamo a vedere noi è quella wifi con il meter che possiamo quindi configurare con l'app tuya o smart life noi opteremo per quest'ultima non solo il device ma anche la confezione e mini è una semplicissima scatolina di cartone bianco e non c'è diciamo molto su quello che ci possiamo aspettare troviamo ovviamente l'immagine stilizzata del dispositivo con riferimento a google home e ad alexa sul retro infine troviamo qualche informazione in più sul prodotto all'interno invece di essa troviamo finalmente il nostro tuya mini smart switch oltre a un manuale in lingua inglese cinese con gli schemi di collegamento che andremo a vedere a breve parliamo però ovviamente più nel dettaglio di questo prodotto questo interruttore smart innanzitutto è realizzato in policarbonato bianco e le misure come diciamo sono ridotte sono 40 per 40 per 20 mm rendendolo quindi adatto ad entrare ovunque la prima cosa che si nota è la morsettiera a sei terminali dei quali parleremo a breve e ci serviranno appunto per effettuare i collegamenti mentre sul retro troviamo un pulsante utile sia nella fase di associazione del dispositivo che nell'utilizzo pratico dello stesso infatti premendolo possiamo chiudere o aprire il circuito il cuore pulsante di questo dispositivo è un chip made tuya quindi un chip wifi realizzato proprio dalla tuya stessa e il cbs3 che troveremo anche in un altro prodotto che andremo a vedere questo è stato programmato in modo tale da gestire la modalità dettagli lei che troviamo anche nei dispositivi sonoff e di cui abbiamo già ampiamente discusso questo chip infine sfrutta la tecnologia wifi a 2,4 gherz quindi se abbiamo dei problemi nella configurazione di questo dispositivo tramite il modem router di casa vi consigliamo di disattivare la connessione wifi a 5 gherz per problemi di compatibilità questo dispositivo tuya lo possiamo innanzitutto collegare a interruttori pulsanti o deviatori mentre per interruttori e pulsanti il collegamento che andremo a vedere non muta quindi è lo stesso per impianti con deviatori le cose si vanno più complicate vi ricordo infine di non toccare mai i vostri impianti elettrici se non siete pratici e non volete incappare in problemi quindi noi non ci assumiamo responsabilità parliamo velocemente della morsettiera i primi due morsetti sono l out e l in che sono la fase in ingresso appunto in e la fase in uscita out in parole povere il primo il cavo che entra nell'interruttore e su cui passa la corrente mentre il secondo il cavo che porta la corrente dall'interruttore per esempio il punto luce per identificare alla linea di fase aiutatevi ovviamente con un cerca fase con ni e n out identificiamo il neutro in in ingresso e out in uscita anche qui la logica adoperata per la fase si applica per il neutro infine gli ultimi due morsetti sono quelli del segnale che va al pulsante all'interruttore sono s1 s2 al contrario i dispositivi sono off s1 non è ponticellato con l in nel nostro caso abbiamo adoperato un punto luce quindi abbiamo collegato al dispositivo una lampadina che andremo a gestire tramite interruttore tramite pulsante quindi andremo anche a modificare le impostazioni software per dire al dispositivo che abbiamo un pulsante non interruttore per configurare ovviamente il dispositivo ci serve l'app smart life quindi eseguiamo il login e clicchiamo in alto a destra sul pulsante più per aggiungere un nuovo device mi raccomando premiamo prima per almeno 5 secondi il pulsante presente sul retro del dispositivo per metterlo in modalità di pairing dopo qualche secondo il dispositivo verrà rilevato e associato alla rete wifi di casa sempre tramite l'app smart life possiamo attivare o disattivare il relay la prima funzione che ci appare predisponendo anche il funzionamento proprio per interruttore vi stiamo mostrando in questo caso come si fa cosa molto importante lo abbiamo detto all'inizio il monitoraggio dei consumi funzionalità presente sul nostro tuya mini smart switch che ci permetterà quindi di conoscere in real time i consumi energetici del carico collegato al dispositivo che vi ricordiamo non deve superare i 16 ampere vi ricordiamo infine che possiamo anche configurare questo dispositivo in home assistant basterà utilizzare l'add-on tuya e associarlo quindi al nostro account smart life e troveremo quindi il dispositivo inserito all'interno del nostro home assistant per poterlo gestire sia come interruttore che per monitorare i consumi con questo si conclude il video di oggi mi raccomando fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate in più vi ricordo nuovamente che potete acquistarlo a 0 euro su temo mi raccomando lo ripetiamo un nuovo iscritto applicazione applicazione del codice sconto fornito da noi un abbraccio allora ciao ciao ciao